Buonasera a tutti, io sono Gigi Toma con il gruppo alla BUA e questa sera siamo qui per proporre in anteprima un brano del nostro nuovo disco che sarà presentato il 24 maggio a Taviano, è nata già dall'anno scorso questa collaborazione con Mariano, questa collaborazione che ha dato tantissimi frutti in tutto il mondo e siamo sicuri che continuerà questa collaborazione e abbiamo avuto l'idea insieme a Mariano appunto di proporre in anteprima uno dei brani del nostro nuovo disco il brano si chiama Blu, è un brano tutto strumentale e buona serata a tutti e buon divertimento con Mariano e alla BUA Grazie a tutti 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 Grazie a tutti